Prestazione superba e mirabile per il bitonto dei ragazzini terribili, che pur incerottato schianta anche il Fasano e avanza sempre più in classifica, accorciando le distanze dalla gognata quota salvezza. Mister Valeriano Loseto corrobora il pacchetto difensivo con i fidati Gomes, Sillette e Gianfreda, a custodia del guardia pali Petrarca. Torna nel mezzo Lucchese e Euclideo, signore del centrocampo, accanto a lui l'ardore di Cardore e la corsa zannante di Mariani. Tangorra e Clemente e Stantuffi esterni, il genio di Maffei a lampeggiare fosforo al servizio dello statuario Moscelli. Tisci dispone, cieca fra i pali, Lezzi apri le baluardi centrali, Lofoco e Bianchini a menare le danze alle spalle del sempreverde vantaggiato, del temibile Gomes Forbes e dell'encomiabile Corvino. Dopo il doveroso raccoglimento per le vittime del disastro sismico in Turchia e Siria, si parte con un giallo al terzo minuto. Contatto illegale fra Manfredi e Cardore in area fasanese, là peraltro puntuale Gasparotto di Rovereto, non sanziona. Minuto nove è l'incipit del festival del gol. Stop e ferale magia arcuata nel set dal piede a mo' di pennello di Maffei. Al quarto d'ora Corvino si invola in vertiginoso controgioco, ma lo murano Silletti e Petrarca. Diciasettesimo, gentile e-mail di Cardore a cieca dalla tre quarti. Poco prima della mezza il raddoppio, cross di Clemente da destra e piatto di controbalzo sottoporta di Moscelli. Subito dopo, botta filante di Mariani fuori d'un soffio. A due dall'intervallo i neroverdi triplicano. Corner da sinistra di Lucchese e arguto colpo di nuca di Murillo Gomes che si insacca. Due minuti e piattone di Moscelli, salva sulla linea di Petto, Manfredi. Nel recupero, traversone da sinistra, mischia furibonda, robusto mancino di Lezzi da fuori, palla che si bila accanto al palo. Nella ripresa, pochi giri di lancette ed è poker. Cross di Lucchese da sinistra e incornata tonante di Gianfreda che fa secco cieca. Minuto nove, piazzato chilometrico del 10 Brindisino e Petrarca si oppone con poco stile e molta efficacia. Al dodicesimo, destro schiacciato di Corvino in area, fuori misura. Poco prima del quarto d'ora, Maffei in ebria di finte dribbling il difensore avversi. Assist lucente per Muscatiello che fredda a cieca ed è manita. Destro di Muscatiello dal limite al diciottesimo, tuffo sicuro di cieca. A cinque dalla mezz'ora, altra parabola prodigiosa di Maffei dai venti metri e palla nell'angolo. Improvviso blackout dei padroni di casa, forse un po' sgonfi, dal trentaduesimo in poi. Prima Muscatiello falce in area Corvino che dal dischetto spiazza Petrarca. Ancora, palo di Corvino con un destro calibrato. Allo scadere, calcio dalla bandierina e inzuccata imparabile di Falcone. Infine, in pieno extra time, Siluro secco di Losavio all'incrocio che Petrarca sfiora appena. E ora, tutti concentrati per la trasferta di Pozzuoli, altro turno cruciale per i Bitontini. Grazie per la visione!